Il N4 è un Caterfillar da 15 totellate, vogliamo fare un applauso ad Armando che adesso vi farà vedere cosa si può fare con un pezzo così pesante e davvero poco versante. Grazie, guardatelo qua, allora avete problemi di spazio a caso, giardino stretto dovete metterlo a posto, Armando viene, su commissione entra a due ruote, non me ne accorgete neanche. ovviamente per i partiti più piccoli al Caterpillar del Rino piccolo 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 va bene grazie Armando intanto ce lo teniamo lì sullo sfondo Armando vi raccontiamo anche un po' di cose perché Radio DJ è presente al Motolive con la radio di supporto di tutto l'evento noi tre vicine siamo qua sul palco vi tornerò che veniamo prima domenica ovviamente ci atteneremo con gli speaker pack che invece entreranno nello specifico ci saranno qua al Motolive dietro a noi dietro al palco ci ha posizionato il nostro studio